Buongiorno, innanzitutto voglio ringraziare l'organizzazione per avermi invitata qui a Macerata. Ero stata qui a Macerata quest'estate con Camper. Ho passato cinque giorni meravigliosi a scoprire tutte le bellezze gastronomiche della vostra regione. E qui a Macerata mi avevano detto, guarda, devi parlare dei vinci sgrassi. Non c'entrate, vi faccio giusto un intro così. Devi parlare dei vinci sgrassi. L'appuntamento con lo chef è alle nove del mattino. Mica posso assaggiare una roba così impegnativa alle nove del mattino, perché sapete meglio di me come si preparano i vinci sgrassi. Ho fatto anche la scarpetta, alle nove e cinque, il piatto era finito. Questo perché, ve lo dico, perché poi alla fine raccontare il piatto, raccontare le peculiarità gastronomiche di un territorio, rientra in un progetto di marketing che ogni regione probabilmente dovrebbe mettere in piedi. È il lavoro che fanno gli amici di Grand Tour delle Marche, di tipicità, è veramente importante, perché proprio anche ieri sera a tavola mi hanno fatto assaggiare dei piatti che probabilmente fuori da Macerata nessuno neanche conosce. Per cui puntare sul legame tra territorio e materie prime e poi tutto un progetto di diffusione e divulgazione assessore, assessore con la E, credo che sia un punto di partenza. Laura Laviano, scusami, Laura Laviano, tu hai delle deleghe importantissime, quindi hai una responsabilità veramente forte nei confronti della tua comunità, assessore allo sviluppo economico, assessore all'ambiente, uno può pensare ma che c'entrano queste due deleghe insieme, però poi alla fine se parli di territorio, se parli di prodotti, inevitabilmente le due cose si incrociano. ospitare questo evento nella tua città perché? E perché è stato importante dire sì agli amici di tipicità? Perché? Allora, buongiorno a tutti, prima di tutto, e vi porto anche i saluti al sindaco che per motivi fisici non può essere qui con noi. Perché portare tipicità? Allora, prima di tutti mancava tipicità a Macerata, vedevamo ed osservavamo questo Grand Tour delle Marche e ci chiedevamo come mai un capoluogo di provincia, non ci fosse una tappa nel capoluogo di provincia. Quindi ho contattato immediatamente i ragazzi, chiamiamoli ragazzi di tipicità, e abbiamo con loro cominciato a costruire un progetto. Lo scorso anno è partita l'edizione zero di tipicità perché era un'edizione particolare dovuta a restrizioni legate al Covid, quest'anno è l'anno 1, lo vogliamo definire così, di tipicità Evo. Evo, questo vorrei rimarcarlo, allora questo nome è proprio per Macerata, Evo Evolution, Evo Evocazione, Evo Olio Extravergine di Oliva, perché parliamo del futuro, di quello che sarà il cibo, l'agricoltura, quindi la materia prima. Parliamo di evocazione perché comunque questa è la nostra cultura, perché portarla a Macerata, la nostra realtà imprenditoriale della provincia è basata sull'agricoltura, su prodotti del terreno, del territorio e quindi non era possibile non portare questa tappa qui da noi. Poi tu sei un addetto ai lavori, diciamolo, quindi sei abbastanza stenta e sensibile al tema. Hai svelato quindi cosa c'era dietro, sì sono un addetto ai lavori, sono un consulente aziendale, ho cominciato a lavorare con le aziende dell'entroterra negli anni 2000, ho cominciato con il biologico, quando ancora non si parlava di biologico e va ricordato che la provincia di Macerata è stata una provincia che ha avuto il maggior numero di aziende biologiche fin dagli anni 2000. Ricordo anche che le marche sono il più grande distretto biologico d'Europa, quindi anche questo è un punto a nostro favore. Abbiamo tante piccole realtà che dovevano uscire dal loro cantuccio per farsi conoscere, quindi era importante portarle e farle vedere. Oggi poi qui abbiamo anche un'azienda giovane, abbiamo un'azienda che viene gestita da ragazzi. Vabbè l'assessore sta già spoilerando. No, no, adesso volevo solamente dire che proprio l'importanza proprio del prodotto in queste realtà è tutto. Perfetto, grazie assessore, grazie mille. Grazie. Grazie, questo me lo riprendo. Non te ne andare. No, no, dico, rimani con noi però perché è importante che la politica sia presente in queste iniziative. L'assessore ha parlato, ha detto una parola che secondo me è quella da cui dovremmo ripartire e guarda caso siamo nel posto giusto per farlo. Progetto. Perché molto spesso le istituzioni non hanno la percezione di quello che succede intorno a loro e si fanno tante volte delle iniziative perché bisogna farle, perché bisogna accontentare l'amico dell'amico. Qui invece mi sembra che il percorso sia assolutamente centrato. Parlare di progetto ci avvicina, siamo in un momento di santità, ci avvicina proprio a quel tema di evoluzione, quel levo che è quella appendice del nome di questo progetto, tipicità, che è un racconto a tutto tondo che parte dalla terra e arriva attraversando varie filiere, perché qui non ce n'è soltanto una, arriva al momento più importante, scusate, io vengo dal mondo del marketing, della comunicazione, quindi per me la divulgazione diventa importantissima, perché oggi possiamo avere tantissimi prodotti, tantissimi progetti, ma se non li sai raccontare rimani un perfetto sconosciuto. E molto spesso la comunicazione diventa uno strategico, una strategica stampella nella valorizzazione di un progetto. A proposito di progetto, io non la vedo, cerco Ambra, eccola, lei la sua frangetta meravigliosa, Ambra vieni con noi, Ambra Micheletti, voi sicuramente la conoscete meglio di me, io sono andata a studiarmela però, responsabile del progetto Biodiversità dell'Agenzia per i Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche, prendi pure. Stamattina io sono arrivata e ho trovato due libri. E questa pubblicazione, la biodiversità agraria delle Marche, e poi ero venuta per presentare anche questo libro, che è una sorta di una raccolta di ricette, la parte finale di un progetto. E che c'entra questi due libri con una scienziata, diciamo, è perché probabilmente tu sei un po' l'anello di congiunzione, si può dire con il lavoro di ricerca che fate, con l'Agenzia, tra questi due mondi, partite dalla terra per arrivare poi al tema della sensibilizzazione e valorizzazione. Ce lo racconti questo passaggio? Esattamente, grazie e buongiorno a tutti. Noi siamo partiti da una legge regionale, che è la numero 12 del 2003, ma nata nel 2003, a tutela di questo mondo, di questo progetto appunto, che è la biodiversità agraria. E quindi necessariamente per gestire una legge che tutela la biodiversità abbiamo catalogato le risorse, quindi parliamo di varietà e razze a rischio di scomparsa, di erosione genetica, quindi le abbiamo ricercate, catalogate e ci attiviamo, siamo attivi appunto per la conservazione. Conservazione che viene fatta sicuramente, sostanzialmente, dagli agricoltori, quindi nell'areale proprio di autoctonia, locali, di tutte queste varietà. E lo facciamo anche insieme ad altre strutture per conservare ex situ, quindi parliamo di banche del germoplasma, campi catalogo. Vogliamo dare un po' di numeri? Io sono andata a sbirciare sul vostro sito. Parliamo di 50 agricoltori custodi, 134 accessioni iscritte al repertorio regionale. Siamo arrivati un po' di più, ma perché non l'abbiamo aggiornato noi. Siamo a 152 accessioni. E le accessioni erbacee erano 500 sul sito, sono aumentate anche quelle? Allora, più o meno il numero è rimasto quello, le accessioni che conserviamo nella banca, quindi in una banca del germoplasma per le colture erbacee. Ma la biodiversità la possiamo definire come un patrimonio identitario di una regione? Anche e soprattutto. È un patrimonio di diversità biologica, parte da questo presupposto, di interesse quella nostra specifica, appunto, agroalimentare, come c'è una biodiversità, insomma, ormai ne è pieno l'argomentazione un po' di tutti. Ma soprattutto, come dicevo prima, noi parliamo di varietà e di razze locali. Queste varietà sono legate a determinati ambienti, determinati ecotipi, ma soprattutto a delle persone, quindi delle tradizioni. Anche spesso i nomi di certe varietà ci raccontano degli aneddoti. E dovete recuperare questa cosa, perché se voi sfogliate questa pubblicazione, che è bellissima, e vi prego di prenderla, sfogliarla, e farne veramente metterla nella vostra biblioteca personale, c'è la storia dei territori. Qualcuno mi ha detto che tu sei un po' la custode dei custodi, ti prendi cura di questi eroi della terra, di questi eroi dell'agricoltura. Quanto è difficile individuarli e gestirli? Più gestirli che individuarli. Che lavoro c'è dietro l'individuazione di queste persone? E soprattutto loro sono portatori sani di un prodotto. Come arrivate ai prodotti? Come viene il vostro lavoro di ricerca? Ma abbiamo iniziato, la Regione Marche era già sensibilizzata a questo argomento, quindi alla tutela del germoplasma, però dall'emanazione della legge abbiamo fatto dei censimenti sostanzialmente, quindi ricercare nei territori magari segnalazioni che arrivavano da persone amanti di queste varietà, di queste razze. Abbiamo messo un po' il turbo all'epoca perché necessariamente molti di queste varietà, ma anche gli stessi agricoltori, erano persone anziane, quindi a raggiungere il maggior numero di persone proprio per cercare di recuperarle in tempo. E da lì con molte di queste aziende abbiamo iniziato un cammino, come dicevo prima, perché loro l'hanno fatto senza una legge, senza sapere insomma qual era la... proprio perché erano legati tradizionalmente a determinate varietà, fagioli, carciofi, pomodori, perché raccontavano quello che era la storia di quei posti. Dalla consapevolezza proprio della ricchezza di questi prodotti, sia da un punto di vista agronomico se vogliamo, nutrizionale, ma anche e soprattutto storico, abbiamo fatto questo percorso, per cui la conservazione è sicuramente un aspetto fondamentale, ma diffonderlo e far raggiungere la storia di ogni singolo prodotto è altrettanto importante, perché se si allarga insomma la platea di persone sensibili, appassionate di queste cose, poi può aumentare la produzione, può aumentare tutta una serie di cose. Quindi possiamo dire che la biodiversità, intesa legata al lavoro che voi state facendo come agenzia, oltre che da un punto di vista agronomico e fenologico, ha un valore molto più ampio? Sicuramente, perché appunto può arrivare a coinvolgere tanti protagonisti rotando in torno a queste cose. In questo caso io inviterò nel frattempo il dirigente scolastico Antonella Canova, se ci può raggiungere, il dirigente scolastico dell'alberghiero Varnelli, professoressa benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno. Come ti chiamo? Non fa niente. Antonella, ti chiamo Antonella. Sì, va bene. Ci sono tutti i tuoi alunni? Sì, ci sono delle studentesse che vedo sedute lì, non so se ce ne sono altri dietro perché vedo un po' di persone. Perché mi piacerebbe... Ci sono due docenti di cucina, il professor Spaccio e la professoressa Cutrini che... Il professor Spaccio è bellissimo con i cognomi, perfetto, uno che si occupa di cucina e di cucina Spaccio è fantastico. È certo, infatti, fantastico. E che peraltro si sono negli anni occupati anche di questo progetto, hanno partecipato con due delle loro ricette. Esatto, raccontiamoli il progetto perché sono partita da queste due pubblicazioni. Abbiamo qui la parte scientifica e però fondamentale è la parte della formazione. Racconto questo aneddoto che dicevo anche ieri sera quando abbiamo incontrato il signor Ferri. Mi ha presentata alla platea della cena. La settimana scorsa ero in Puglia, lo dico con dolore, nella mia regione, davanti a un pubblico di studenti degli istituti alberghieri. Io ho detto adesso fermi tutti, prendete i cellulari e sollevateli, così non potevano sgamare. Dovete dirmi almeno cinque presi di slow food della Puglia e un paio di DOCG. Silenzio tombale, imbarazzante. Per me imbarazzante con grave dolore e dispiacere, imbarazzato anche da parte dei docenti. Perché spesso noi dimentichiamo che la ricchezza, il patrimonio agroalimentare fa parte del bagaglio culturale che questi ragazzi devono iniziare a conoscere da subito. C'è una frase bellissima che ho letto su internet, scritta da Angelo Serri, che questo è un progetto che ha a che fare con l'umanesimo dell'agroalimentare. Perché se noi perdiamo quell'approccio empatico, umano, che lega la parte finale del consumatore con quelli che sono i custodi della terra, andiamo in tilt. Che responsabilità avete voi docenti? Molta, cioè una responsabilità enorme. Ma devo dire che questo è un progetto che va in questa direzione, perché è un progetto che si propone di formare i giovani proprio alla cultura della biodiversità. Con questo progetto, Biodiversità in cucina, noi iniziando già dal 2012-2013, che è stata la prima edizione, quindi ormai dieci anni fa, abbiamo partecipato, credo, a tutte le edizioni seguenti, cioè successive. Confermi. Esatto. E con tante ricette che ci sono, insomma, qui, due delle quali sono state proprio realizzate dai docenti che oggi sono qui con me, una delle quali ha anche ricevuto, insomma, un premio, insomma, importante. Quindi la soddisfazione per il concorso, ok. Ovviamente però poi c'è tutto un discorso di lavoro e di formazione dietro queste ricette, esatto. Perché comunque nella riscoperta delle antiche farine, nella riscoperta degli antichi legumi che sono stati oggetto nel tempo delle varie ricette che poi ci sono nel libro, c'è dietro tutto un lavoro fatto di ricerca storica, di ricerca in scienza dell'alimentazione. Perché non dimentichiamo che questo è un progetto multidisciplinare, non hanno partecipato solo i docenti di cucina che hanno realizzato insieme ai ragazzi le ricette, ma è stato un progetto interdisciplinare in cui hanno collaborato anche i docenti di scienze dell'alimentazione. Per cui sono progetti che hanno occupato i ragazzi per mesi, per magari tutto l'anno, finalizzati a quel concorso. E' bello raccontare qualche aneddoto che, per esempio, molto spesso noi non abbiamo molta stima per i nostri giovani, io sì li amo perché da loro imparo tantissimo perché ormai, essendo più vicina ai 50, attraverso i racconti dei figli, delle mie amiche, degli adolescenti, scopro quella che è la visione del mondo a un livello più basso in termini di età solamente rispetto alla mia esperienza. Ma quindi spesso, diciamo, a questi ragazzi, a una scuola, portano il risultato a casa, non se ne fregano niente. Però io credo che vivere esperienze del genere in cui incontrano dei personaggi che sono un po' dei filosofi, dei visionari, possa portare loro un valore aggiunto anche in termini di dare un po' un booster di curiosità. C'è qualche aneddoto carino che ci puoi raccontare nel viaggio che hanno fatto i tuoi ragazzi in questi ultimi dieci anni? Beh, sicuramente è carino vedere gli stessi ragazzi che magari noi tutti i giorni vediamo in classe con cui abbiamo i soliti problemi, gli ritardi, le note disciplinari, la difficoltà nella gestione, eccetera, perché sono comunque ragazzi adolescenti e poi vederli invece al lavoro, in cucina, impegnati, con grande solerzia, gli stessi ragazzi che magari al mattino io ho dovuto andare a riproverare in classe, li ritrovo poi in cucina magari all'ora del laboratorio e li vedi proprio che sono estremamente impegnati. Questo è bello perché significa che comunque credono in quello che fanno, insomma, nonostante le difficoltà dell'età che vivono, perché comunque sono ragazzi che iniziano a 14 anni, fino a 18, quindi comunque si è alla scuola per l'ora in peso. Ma non si hanno sempre le idee chiarissime in quel momento, molto spesso chi esce dall'istituto alberghiero capisce di avere quella passione solo dopo, perché prima c'era quella fase della adolescenza in cui sono un po' ribelli. C'è qualcuno di questi ragazzi che ti ha detto grazie per quello che avete fatto? Sì, è stata la cosa più bella forse di questi concorsi, infatti altri aneddoti sono stati proprio quelli, noi i concorsi si basavano anche sul recupero di ricette tradizionali, utilizzando questi ingredienti per rivederli poi in ricette in chiave innovativa, però vederli proprio anche delle foto, delle interviste fatte ai loro nonni in cui chiedevano le ricette, ne parlavano e scoprivano insieme determinate cose e di questo poi ci hanno sostanzialmente ringraziato alcuni alunni, era il nostro obiettivo e quindi siamo felici. E nel rapporto con i custodi, non è venuto nessuno dei custodi, stanno lavorando? Ne abbiamo, non lo dovevo dire, ce n'è uno tra il pubblico e questo che fa l'indifferenza. Che fa figa, come vedete che venivano a fare, è passato a scuola, come scuola? Allora, siccome era difficile far arrivare anche insomma nel percorso le uscite presso le aziende custodi, anche se ci abbiamo provato in certi casi ci siamo anche riusciti, abbiamo portato i custodi in classe, perché non ci fermiamo e insomma è stato... Ma lo vogliamo invitare, secondo te? Se lo invitiamo a parlare... Claudio, vieni a fare un saluto, veloce veloce. No, più che un saluto io vorrei avere l'esperienza dall'altra parte. Tu eri stato in classe, non mi ricordo insieme a... No, parla solo col microfono, sennò qua parte l'inciaggio. Che cosa produci? Io produco ceci e la roveglia. La roveglia sarebbe un pisello, una pianta spontanea. Ok, e avere questo rapporto con i ragazzi dopo aver passato invece anni in campagna a fare il tuo lavoro, ti infastidisce o ti dà un senso di responsabilità? Dice, oh, devo passare il testimone, devo raccontare quello che fa? No, è una cosa carina trovarsi davanti a una classe perché c'è la maggior parte di questi ragazzi che ti ascoltano. Dopo, io come la pensano, questo non te lo so dire. Poi lo chiederemo, ci sarà qualche ragazzo che possiamo coinvolgere sicuramente. Esattamente. Quanto è difficile fare quello che fai? Cioè, il mio, come il mio e di tanti altri agricoltori custode, è difficile perché la maggior parte di noi non usa chimica. Io venivo da un'azienda agricola che si lavorava in biologico dal 1985, primi anni che proprio è uscito il biologico in Macerata. Perciò io ho creduto, ho creduto in questi legumi, di farli senza chimica. Non sono certificato in biologico perché la nostra azienda è molto piccolina a casa e faccio una piccolissima, faccio solo un prodotto di miglia. Quanti ceci ti produci? 4-5 mila metri, in tutto un ettro di roba, tra ceci, roveglia e fagioli di diverse varietà. Senti, e il rapporto con la custode dei custodi e quindi tutto il circuito dell'agenzia ha cambiato la tua vita da produttore? A parte l'essere qua davanti al pubblico. Quando sono partito io con tanti altri ragazzi, eravamo una quarantina forse, era un gioco di squadra, come se fossimo tutti fratelli. Bellissimo. Era un rapporto bellissimo. Solo per questo hai vinto. Grazie Carlo, grazie mille per il lavoro che fai, davvero. Grazie davvero. Ed è bello, secondo me, portare queste esperienze poi nelle classi, ma probabilmente, Antonella, sarebbe bello veramente prendere i ragazzi e portarli a sporcarsi le mani nei territori e vedere la... Quanto sarebbe invece importante prendere questi ragazzi, tirarli fuori dalle classi e portarli a sporcarsi le mani e capire che... Allora, io sono il protagonista da stanotte di una polemica su Facebook, perché purtroppo Facebook fa parlare pure gli idioti, compresa me. Un personaggio del mondo della televisione ha pubblicato la foto di una confezione di ceci, manco a farla apposta, dove c'è sopra il marchio di qualità VEG 100%. Ho detto, ma perché non si vede che sono dei vegetali, che sono dei ceci, c'era bisogno di... Tutta una serie di cose, purtroppo una persona molto conosciuta, molto influente, ho detto, guarda che il marchio di qualità certifica una filiera, probabilmente in tutta la filiera non vengono usati, derivati dagli animali, per cui è giusto che lui lo dica, perché ormai siamo in un mondo in cui io lo voglio sapere. Quindi quanto è importante poi la conoscenza, partendo dagli studenti, arrivando fino al lavoro che fate voi, tornando alla divulgazione, una battuta e una battuta? Beh, direi che è fondamentale. Comunque nel percorso dell'Istituto Alberghiero è proprio previsto che una parte delle ore del curriculum siano svolte proprio all'esterno della scuola, è proprio previsto nel nostro percorso. E queste sono esperienze fondamentali per le loro competenze future. E anche questi stessi progetti, comunque, sono progetti che portano, insomma, la valorizzazione di quelle che sono le, diciamo così, le ricchezze del territorio e che servono ai ragazzi a formarsi, perché nel futuro ci saranno poi loro che magari lavoreranno nell'enogastronomia. E quindi è bene cominciare da quest'età, e cominciare dalle scuole. Per questo io tutte le volte che mi invitano a questi incontri dico sempre una cosa, anche per concludere, che ringrazio tutti, ringrazio molto Tipicità, per questa volontà di coinvolgere la scuola, perché è da lì che si comincia, se vogliamo veramente che, diciamo, questo sia un percorso per il futuro, perché il futuro, il nostro futuro, è nelle nostre scuole. Certo. E al processo di ragazzi chiederei a Sofia Angeletti, intanto di iniziare ad avvicinarsi, giovanissima, una gastronoma. Ambra, secondo te, invece, quanto è importante quel tema della divulgazione, mettere in connessione l'informazione con il mondo esterno? È fondamentale, come dicevo all'inizio, non era neanche un prerequisito della legge, se vogliamo, però attualmente per noi è il passaggio fondamentale, su cui stiamo appunto lavorando. Abbiamo ideato un portale dedicato agli agricoltori custodi, proprio per dare loro una vetrina, e quindi diffondere la loro attività a un pubblico sempre più ampio. Questi agricoltori, in questo portale, si intrecciano anche a degli itinerari, delle comunità del cibo, quello che, insomma, gli argomenti futuri su cui lavoreremo, ma oltre alle aziende serve proprio chi lavora nel diffondere tutto ciò, perché magari l'azienda può avere la competenza, la conoscenza, ma magari non ha tempo o non ha l'attitudine. affiancare le aziende con chi può giustamente promuovere in modo positivo, importante, è sicuramente una competenza. Con competenza, sicuramente, perché spesso manca quello. A proposito di persone formate per questo, mi piace presentarvi, Sofia, giovanissima, quanti anni hai Sofia? Parla solo al microfono, sono quelli di Lynch. 23. Ricolosissimi, le dico, sono cattivissimi. Sofia è proprio quello che, è l'emblema di quello che stiamo dicendo, la spot, una gastronoma, però è così, laureata in scienze gastronomiche a Camerino, quindi anche la scelta di avere nelle Marche, non vedo l'assessore, però avere nelle Marche un'università che si dedica proprio a questo tema, in una regione con una grande biodiversità, penso che sia veramente importante. Tu dovresti essere in teoria stata formata per affiancare le aziende. Io vorrei sapere qual è la tua esperienza, cioè nel rapporto anche con le aziende, le aziende sono pronte ad avere figure professionali esperte come la vostra, la tua, la vostra? Se sono pronte non lo so, perché come diceva anche Ambra, gli agricoltori custodi sembrano un po' a tenere nel loro scrigno il prodotto e quindi non so se siano ancora pronti, però con queste iniziative, grazie a voi, questa cosa sta migliorando e quindi credo che in futuro ci sia bisogno di persone come noi. Qual era il tuo sogno quando hai deciso di iscriverti a Scienze Gastronomiche? Perché l'hai fatto? Ma finito l'alberghiero sentivo che non bastava le conoscenze acquisite durante l'alberghiero e quindi avevo bisogno di più evoluzione, ecco, e quindi ho deciso di intraprendere questo percorso, quello di Scienze Gastronomiche, che a differenza dell'alberghiero riesce a dare più nozioni anche territoriali, cioè è più focalizzato anche sulle marche, sui nostri prodotti. Ma va bello vedere i giovani comunque che hanno voglia, che sono bravi. Un tempo fa io ho presentato un libro, un libro di Donatella Cinelli Colombini, ho scritto, ho intervistato Donatella Cinelli Colombini e Dario Stefano, perché hanno scritto questo libro sull'importanza di inserire l'enoturismo, la storia del vino, la storia dell'olio, anche come materie scolastiche, perché poi alla fine, non ci prendiamo in giro, parlare di vino, parlare di olio, vuol dire parlare di quello che c'è dietro, quelle etichette, quindi parlare di cultivar, parlare di vitigni, legati al terreno, legati al territorio, quindi è proprio storia, altro che geografia, cioè io la geografia l'ho imparata giocando a risico, però sarebbe molto più interessante probabilmente insegnare la geografia ai nostri ragazzi, partendo dalla storia dell'enologia e dell'olivicoltura, si dice, quelli bravi dicono così, perfetto, benissimo. Allora io ringrazio voi intanto per essere stati con noi, Ambra, grazie per il lavoro che fate come agenzia, prof, grazie per la formazione su cui puntate, perché credo che sia, ne parlavo l'altro giorno con degli amici, bisogna ripartire da dove? Dalla cultura, che c'entra la cultura con l'enogastronomia? C'entra, perché se non si parte da lì si continua a navigare nel buio e si continua ad avere cuochi che lavorano su preparazioni per le quali non hanno una formazione giusta e che poi magari non ti sanno dire neanche qual è il presidio slow food più vicino a casa loro. Quindi grazie davvero per il lavoro che fate. Grazie. 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 Grazie.